Non è la prima volta che il Salento viene messo in ginocchio da un acquazzone ed è insostenibile il pensiero della giovane vita spezzata aginosa della donna travolta dall'acqua mentre era in auto. Il giorno dopo, mentre le previsioni meteo annunciano che non è finita qui, centinaia di interventi, parallagamenti, auto impantanate, strade impraticabili continuano ad impegnare vigili del fuoco e forze dell'ordine che pian piano stanno ripristinando la normalità e continuano ad arrivare in redazione all'indirizzo dilloateleramachiocciolagmail.com le vostre foto e i vostri video che stanno testimoniando la situazione e i danni in ogni comune dal nord al sud Salento. Queste ci arrivano da Copertino, il fossato del castello completamente pieno d'acqua ridà alla fortezza l'aspetto che doveva avere nel XVI secolo. Un altro paese è molto colpito e leverano, questa strada è diventata il letto di un fiume. In località La Strea l'acqua risucchia un cassonetto e smantella l'asfalto. Poco lontano a Carmiano una famiglia ci invia le foto della strada in cui abita, via Ferraris, denunciando che qui, ad ogni pioggia, accade questo. Una via cittadina di Salice-Salentino. Questo è un tratto della strada che collega Magli a Cutrofiano, l'acqua ha inondato la campagna e poi si è spinta sulla carreggiata. Questo è un incrocio di eredeo. E questo di Surbo. Spostiamoci a sud, questa era a liste poche ore fa. Questa è la situazione incredibile registrata a Torre San Giovanni, Marina di Uggento, dal Partito dei Comunisti italiani, che chiede al prefetto, al sindaco e alla protezione civile regionale di valutare ogni opportuno intervento per chiedere la dichiarazione di stato di calamità naturale. In Piazzale Cuneo, nella zona 167 di Lecce, è letteralmente saltata la tubatura della Fogna. Nello scantinato al Civico 15. Questa foto è stata scattata in uno dei parcheggi dell'Ecotecne. Tanti disagi anche nel Brindisino, specie nel capoluogo adriatico, dove per tutta la giornata di lunedì si sono registrati episodi di allagamenti e blocchi alla circolazione, con decine di automobilisti, soccorsi ed intere arterie chiuse al traffico. Centinaia anche le cantine e le campagne allagate, con la Polizia Municipale che ha invitato i cittadini a non fare uso del proprio veicolo privato nella zona di Viale Arno degli uffici della Questura, a causa dell'esondazione del canale Patri. Intilta anche il traffico aereo, con ritardi e dirottamenti su Bari. Solai a rischio quelli denunciati dai genitori degli studenti della scuola Calò del Rione Casale, dove la pioggia avrebbe evidenziato infiltrazioni e cedimenti. La situazione sta tornando pian piano alla normalità, molte arterie sono state riaperte e sono stati anche liberati sotto passaggi nei pressi della stazione. Situazione in netto miglioramento anche in provincia. A San Pancrazio Salentino il Forum 20 è stato allagato da oltre 40 centimetri di acqua e a San Pietro Vernotico sono stati chiusi due sotto passaggi. Grazie a voi telespettatori abbiamo dato un quadro generale della situazione e dei danni, troppi, che si sono registrati ovunque.